Adesso tocca agli agronomi e ai dottori forestali. Abbiamo delineato tutta una serie di questioni. Quindi non è soltanto nel lontano parco, nell'antana plaga verde che si pongono delle questioni. Qui è un discorso che è totalmente integrato. La riflessione che faceva anche adesso l'architetto Scopo è che qui si deve ripensare completamente qualcosa che si sta facendo. Però urge un ripensamento e un riposizionamento, un ruolo sempre più crescente di queste professioni che possono portare la specifica competenza in un disegno che deve essere globale. Grazie delle riflessioni che ha posto, ma anche delle riflessioni che poche anzi, prima di me, l'architetto Scopo ha messo all'attenzione di questa platea, ai collegamenti streaming che ci sono oggi. Perché credo che la riflessione ormai non possa essere limitata all'ambito urbano, a quel rapporto città-campagna che nel corso degli anni precedenti, quando con una legge urbanistica, ma anche con la storia della nostra cultura, che ha raccontato bene l'architetto Scopo, il rapporto tra l'urba e il rurale era un rapporto abbastanza definito. Poi è successo qualcosa in cui questa frammentazione, questa corsa un po' dissennata, no un po', tanto dissennata all'urbanizzazione, alla realizzazione senza, come dire, una prospettiva, una dinamica che ha, come dire, si è innescata con un meccanismo di tipo finanziario. Io realizzo opere perché deve esserci un'economia, è un'economia che deve far crescere il PIL, quindi tutta la dinamica abbiamo conosciuto fino ad oggi, perché ancora non è cambiata sostanzialmente, abbiamo un fermo, quando si ferma la pesca c'è un attimo di fermo, poi si ricomincia. Quindi abbiamo questo periodo di riflessione in cui dobbiamo anche capire quali sono i paradigmi per ricominciare, per effettivamente determinare quel concetto di sviluppo sostenibile che deve servire non soltanto a noi stessi, ma ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, a un pianeta che indubbiamente ha dei limiti fisici. E questi lo sappiamo. L'Italia più di tutti. Oggi noi non possiamo parlare di verde urbano, diciamo, in senso classico, perché noi abbiamo un rapporto dove l'urbanizzazione ormai ha mosaicizzato la campagna. Se voi fate un volo da Milano a Belgrado, vi rendete conto che quello che era la pianura padana oggi non lo è più. Quindi quella che era la pianura sterminata dove avevamo dimensioni dei campi, degli appezzamenti, oggi sono frammentati non solo da urbanizzazioni edilizie ma da infrastrutturazioni. Forse ancora più, come dire, arroganti rispetto all'urbanizzazione delle città. Sono state costruite New Town nel Veneto. Sono state realizzate delle opere che naturalmente hanno determinato una frammentazione dove praticamente gli appezzamenti di terreno, e che io comincio a chiamare agronomia urbana e arboricoltura urbana, determinano dei giardini di queste nuove dimensioni. E allora la riflessione, ovviamente, deve essere molto forte. Il verde urbano classico, diciamo, è quello limitato ai giardini, ai parchi urbani, a quella dimensione, tra virgolette, del decoro urbano, quello che classicamente veniva chiamato così oggi non è più la dimensione su cui ci dobbiamo confrontare, ma ci dobbiamo confrontare su uno spazio che ormai è illimitato. Cioè tutto quello che in quelle aree era stato oggetto delle grandi bonifiche della fine del Settecento, fino ad arrivare agli anni Cinquanta, ormai sono come se quelle prime trasformazioni che hanno trasformato, scusate il bisticcio di parole, le terre dagli acquitrini a terre fertili, oggi sono state occupate dalla urbanizzazione. Quindi se noi ancora continuiamo a declinare il verde, gli spazi, e questo dobbiamo anche riflettere sulla legge 10 che lo declina in maniera perfetta. È una legge già che comincia a parlare di consumo di suolo, comincia a parlare della biodiversità all'interno di questi spazi, e vede più in là del singolo spazio verde che molto spesso in questi anni è stato soltanto regolamentato con regolamenti del verde, con piccole iniziative, per carità molto lodevoli, da parte di amministrazioni comunali che si sono già posti questo problema da anni, ma per la prima volta questa legge ha fatto, per carità, in maniera embroniale, molto anche frammentata perché richiama leggi diverse, ma ha posto l'attenzione su questo. L'ho posto in senso ampio, quindi non limitandolo soltanto a uno spazio, a quello del Codice Urbani e prima la 1497, e a quello che noi abbiamo nella nostra Costituzione, cioè quella della tutela del paesaggio e di particolari ambiti paesaggistici. Non soltanto quindi al vincolo idrogeologico per tutele particolari di parti del nostro territorio, ma in maniera diffusa sull'intero territorio nazionale. Cito un'altra legge che ieri è stata approvata, che è poco conosciuta, ma credo che sia molto importante, perché poi è legata a un altro termine che è stato introdotto nella nostra legislazione di tipo penale, cioè sui reati di danno ambientale, cioè la legge sulla biodiversità agricola. Ieri è stata approvata una legge, la prima volta che se ne parla, sulla biodiversità. Mi riferisco a questo concetto di biodiversità agricola, di biodiversità in generale, dell'utilizzo del materiale genetico, che noi abbiamo fatto uso in questi anni nel progettare, realizzare spazi verdi, non soltanto all'interno della città, ma in generale. Quei materiali che prima diceva Francesco Scoppola, indubbiamente sono dei presidi di conservazione di germoplasma nel corso del tempo. In questi anni questa pratica, soprattutto nella pratica vivaistica, del materiale di derivazione e della riconoscimento della certificazione di questo materiale, noi ormai importiamo la maggior parte del materiale di propagazione vegetale che utilizziamo in questi ambiti urbani. Questo è uno dei problemi, quando parliamo di biodiversità negli ambiti urbani, in questi spazi, purtroppo anche nelle campagne e nelle aree dove vengono realizzati interventi vegetali o vegetazionali, tutto questo naturalmente pone dei problemi, non sarà risolutiva questa legge, ma comincia a determinare un registro, una catalogazione, una modalità per cui, quando parliamo di biodiversità, parliamo di patrimonio, che consente di mantenere e promuovere questo tipo di utilizzo di materiale genetico. La riflessione che mi poneva il moderatore, cioè sul ruolo della professione, degli agronomi, dei dottori forestali, dei dottori agronomi, del rapporto che ci deve essere in una pianificazione, in una progettazione multidisciplinare, e io credo che sia ormai fondamentale, perché non tutto risiede in una professione, in un sapere, non solo in senso tradizionale, io sostengo, ma anche proprio in senso dell'innovazione, che le professioni devono svolgere nel saper operare con linguaggi comuni, ma anche saper operare con una prospettiva di un'organizzazione degli spazi in maniera completamente diversa da quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ci sono due riflessioni che intendo fare. Domani se ne parla, all'ultimo giorno degli stati generali, prima della giornata dell'albero, cioè quello della ricerca, dell'università, della formazione delle nuove generazioni e dei professionisti. Noi siamo nati in un periodo professionale, come dire, di mezzo, poi questa parola di mezzo la citerò poi, anche per altri motivi, sul valore economico del verde. Siamo, almeno quelli della mia età, io ho 50 anni, e siamo nati in un periodo in cui c'era l'urbanizzazione forte, dove questi principi che oggi noi discutiamo erano marginali perché c'era una corsa a quello, ma nel frattempo, diciamo, un nucleo molto ristretto ha già cominciato a ragionare su questo, sia in termini di difesa dell'ambiente, sia in termini proprio di una professione che doveva guardare a questo tipo d'approccio, perché questo tipo d'approccio consentiva anche degli spazi professionali, e lo dico anche in termini, come dire, molto. E quindi oggi siamo arrivati a, come dire, a un momento in cui c'è una riflessione ovunque, la crisi finanziaria ha portato a riflessioni su come le varie professioni, e compresa anche la nostra, si devono rivedere, rifunzionalizzare per i prossimi 15 anni. Perché è evidente che non possiamo oggi, soprattutto lo dico come classe dirigente, pensare che fra 15 anni avremo le stesse cose che facciamo oggi. Quindi se non lo pensiamo oggi di come non solo l'ambiente, ma come saranno le necessità, i fabbisogni delle persone che abitano questo pianeta, abitano l'Italia in generale, e quali saranno le dinamiche che possono portare a, come dire, a ulteriori, diciamo, periodi di crisi, ma soprattutto a come questa professione può essere utile per le persone, per coloro i quali poi utilizzano questa professionalità. Beh, io credo che questa è una delle riflessioni che insieme alle altre dobbiamo farlo, lo facciamo anche al nostro interno della categoria, ma credo anche che c'è una necessità proprio immanente della revisione della formazione universitaria rispetto a questi temi. Perché evidentemente noi ancora, come dire, quando parlavo di due termini, due discipline che possono essere, potevano essere già impiantate da molto tempo, che è l'agronomia urbana, cioè come coltivare in città, d'accordo, con substradi diversi, con metodologie diverse, che abbiamo, come dire, sperimentato direttamente a livello professionale, ma che a livello disciplinare non si sono mai articolate con una, come dire, un approfondimento di ricerca in maniera stabile e duratura. La risposta sempre che ci è stata data è che il materiale che abbiamo all'interno dell'università è questo, quindi non è che possiamo fare dei cambiamenti, perché la pianta organica è questa, eccetera, 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 no? Quindi è evidente che qualche cosa qui bisogna smuovere, perché se andiamo avanti con questo passo, perché io già facevo questo e non riesco a fare dell'altro, evidentemente qualcosa, se noi i cambiamenti non ci sono, se noi non formiamo persone che sono adeguate ai cambiamenti, evidentemente non possiamo pretendere dei cambiamenti. Questo è un aspetto, credo, fondamentale e questo vale, credo, per tutte le nostre discipline professionali. L'altro aspetto è quello, naturalmente, del rapporto che oggi c'è con la dinamica dell'innovazione. Questo dipende, questo è, come dire, rilevante soprattutto nel nostro Paese, noi assorbiamo molto da fuori e poco produciamo per il fuori, questo, come dire, dobbiamo cominciare a, come dire, invece ad essere produttori di innovazione per l'esterno, per tutto il grande patrimonio che poi ci ricordiamo e di come saperlo fruttare in termini innovativi, sul modello, diciamo, su un nuovo modello di riarticolazione delle città e della, come utilizzate, voi archivetti, della rigenerazione urbana o della rigenerazione territoriale, perché secondo me non si ferma all'urbano ma si ferma, si ferma all'interno di tutto il territorio, di tutto il nostro territorio, perché poi queste problematiche le abbiamo ormai diffuse in tutte le parti, non solo occidentali, ma in tutto il mondo, quella della concentrazione urbana, del depauperamento del suolo. Questo è l'anno, si sta concludendo con il 5 c'è la giornata sul suolo e l'anno internazionale del suolo. Sull'anno internazionale del suolo poche cose sono state fatte sul valore effettivamente non soltanto biologico, ecologico e di biodiversità del suolo, ma sappiamo benissimo che proprio in quest'anno la Commissione europea ha ritirato la direttiva sull'uso del suolo. proprio quest'anno l'ha ritirata, cioè non è che sono dieci anni che stava lì a essere discussa e proprio quest'anno l'ha ritirata, diciamo che non c'erano i tempi maduri per poterne farne una che programmava il consumo del suolo da zero al 2050. Noi abbiamo una legge lì dentro che si è fermata non è un problema solo di consumo del suolo poi andrà avanti e come interpretare diceva bene nella sua analisi Francesco Scoppola di come interpretare questo contenitore per i prossimi 50 anni quindi noi dobbiamo farlo e abbiamo le professionalità giuste. Termino con una considerazione sul valore economico del verde che prima abbiamo detto abbellimento è come dire un pezzetto della pratica urbana beh non credo proprio insomma perché se i fatti di Roma Capitale no? ritenevo che questo era uno dei più grossi business no? Siamo intervenuti con una delibera dove praticamente non è solo un problema in Roma Capitale questo è un problema di tutte le città dove il verde viene considerato cenerentola attenzione non professionalizzante con maestranze altrettanto va bene? non professionalizzate perché possiamo prendere dai con tutto il rispetto per le persone quindi non sto citando a caso queste cose professionalità che poi a livello proprio di mano d'opera possono essere dei disadattati dei come dire dei detenuti o delle diciamo tutto quello che può rientrare nelle cooperative di tipo B o variamente diversificato in maniera tale che noi possiamo bypassare qualsiasi regola va bene? per fare business e questo è stato il trattamento no? in questi anni di questo settore e continua ad esserlo e continua ad esserlo perché se voi andate a guardare dice perché le potature non sono state fatte bene? c'è una ragione perché le maestranze non sono formate non sono formate per questo ma vengono utilizzate altri tipi di maestranze che vanno bene per fare altri tipi di scopo e non ce ne accorgiamo no? perché naturalmente se può dare male tanto insomma non succede niente ricrescerà eccetera questo è il ragionamento è evidente che se io voglio della manodopera despescializzata anche il quadro evidentemente deve essere non specializzato o comunque c'è una ragione per raggiungere quell'obiettivo no? è evidente quindi se noi trattiamo questa materia in questo modo per renderla il più semplice possibile d'accordo? che può essere per tutti perché cosa serve ad agliare un prato? no? cioè tutte queste considerazioni che sono uscite fuori quando è uscito fuori un bubone è evidente che bisogna porselo come riflessione per dire se o meno questo lavoro deve essere qualificato e quindi deve essere messo va bene in un quadro ben preciso sulla direttiva appalti d'accordo? questo è un settore come avviene considerato in tutti i paesi europei un settore che è ad alta specializzazione e quindi va qualificato per questo sono mestieri ben precisi e quindi vanno assolutamente codificati poi nei bandi nelle regole con le qualifiche giuste e corrette e quindi vedremo poi una responsabilità maggiore un'attenzione maggiore ma soprattutto una realizzazione dell'opera che siano poi durature nel tempo e quindi questo è uno degli elementi su cui noi dobbiamo tutte le professioni ma tutti i colori quali dai quadri non solo i quadri ma dalle amministrazioni dalle assessori al verde a colori quali si occupano di queste cose bisogna porre attenzione su questo tipo di lavoro questo è un lavoro fondamentale che parte certamente anche da una buona progettazione che deve avere quell'indirizzo per poi qualificare il lavoro che se ne fa questo è diciamo uno dei punti su cui come comitato non solo ci siamo abbattuti ma ci siamo impegnati a far sì che questo tipo di ruolo sia un ruolo dove le amministrazioni lo prendano non come un elemento come dire per nascondere ma come un elemento di grande senza una buona qualificazione del verde all'interno delle città non si fa non c'è non ci potrà mai essere grazie grazie presidente allora ci avviamo la conclusione perché c'è una seconda tavola rotonda tra breve che prenderà la seconda parte della riflessione quindi io concluderei con una battuta proprio velocissima a raffica dei tre relatori rimasti cioè questo è un pezzo degli stati generali del verde stati generali quando si dice stati generali si dice qualcosa di importante presuppone credo un contributo a un processo che aiuti una consapevolezza un po' più generale riuscire a essere fattore di cambiamento fattore di promozione di qualcosa di forte di una di una svolta culturale per non fare quello ricordo la definizione che dava il primo ministro dell'ambiente italiano era Giorgio Ruffolo che diceva attenzione a non fare del semplice intellettuale raffinato del semplice nettoyage allora questa cosa è un tema un rischio una che io credo sia ancora presente nel senso che le cose che sono state dette danno il senso di una consapevolezza di un avanzamento importante leggi sono state fatte leggi importanti però occorre fare veramente è rompere un muro forte si parla di agricoltura urbana si parla di orti io vivo a Milano c'è a Milano c'è il parco sud che è il parco agricolo più grande d'Europa eppure è uno stillicidio continuo di comuni che in cerca di aree da vendere per realizzare si insinuano con mille scuse con mille motivazioni allora qui occorre cioè il fioretto non serve più serve la sciabola la sciabola è un salto culturale importante allora credo che questa sia un'occasione gli stati generali del verde sia un'occasione per dare un segnale da questo punto di vista il tema della demolizione la demolizione e rinaturalizzare non è una cosa semplicissima però è un tema se non lo cominciamo ad affrontare allora vi butto là questa cosa 30 secondi veloci per ognuno allora riparto un secondo dal da quello che ha detto il direttore scoppola perché è chiaro che è arrivato il momento di fare al di là delle leggi un patto sociale un patto civile sulla questione del consumo del suolo come si diceva una volta senza se senza ma anche perché il paradosso poi del che consegue dal ragionamento del direttore è che proprio la logica della villa che è declinata in minore diventata la villetta ha contribuito alla distruzione del paesaggio italiano e a un consumo del suolo che vi ricordo che al 50% è fatto dalle strade che collegano le villette che collegano i garage per cui in Italia si asfalta qualunque strada anche in cima a una montagna laddove passa una macchina ogni tre quarti d'ora in una logica assolutamente insensata che ha sicuramente un'origine di carattere economico ma che è ahimè profondamente radicata nella cultura per quello dico che è un patto sociale un patto civile perché gli italiani in senso lato continuano a desiderare quella villetta che consuma suolo quella villetta la cui manutenzione futura delle infrastrutture che lì comunque vanno portate acqua, gas fognature eccetera sarà a carico della comunità allora il patto che è un patto civile e culturale deve porre un argine immediato nella logica di quest'argine ci deve essere però contemporaneamente il ritorno del progetto per rigenerare il costruito che è in condizioni spaventose non sto parlando non sto parlando evidentemente dei centri storici che vanno lavorati con l'attenzione necessaria sto parlando di un patrimonio edilizio di 12 milioni di edifici di cui 8 stanno andando a fine vita e che sono in condizioni spaventose in un paese in cui lo spazio pubblico e per cui il verde è sempre stato in fondo l'ultimo il meno importante il retro di casa mia dove metto la macchina dove scarico la spazzatura riportare lo spazio pubblico e per cui il verde urbano al centro delle politiche di rigenerazione urbana è evidentemente il punto di partenza il cambio culturale non si consuma però solo qui cioè non si consuma nei tavoli di coloro che ci ragionano perché hanno dei ruoli lo dobbiamo veramente consumare nella coscienza dei cittadini perché c'è un passaggio molto profondo in un paese in cui la proprietà degli immobili è adesso forse tu lo sai meglio di me su percentuali incredibili record mondiale in cui ognuno ambisce al suo pezzo di non di architettura ma al suo pezzo di edilizia alla sua sattaverna e al suo garage in cui tuttora ci sono leggi che ti impongono di fare un tot di parcheggi dove fai delle trasformazioni in una logica assolutamente superata e per cui c'è questo nodo molto difficile da risolvere e su questo bisogna essere molto molto tignosi e arrivare fino in fondo a certi processi la secondo come dire lato del problema è che quando queste politiche si traducono in norma spesso diventano un obrobrio da un punto di vista legislativo e inapplicabile da un punto di vista fattuale uccidendo io questo lo dico da veramente presidente degli architetti tendendo all'omicidio del progetto che viene talmente prescritto incastrato in una congerie di norme che si sovrappongono si contraddicono sono interpretabili dove viene prescritta anche la misura delle piastrelle nel bagno che la capacità progettuale di risolvere i problemi perché il progetto ed è il progetto integrato serve a questo serve a risolvere problemi complessi per la vita quotidiana delle persone il talento e l'arte come dire è un valore aggiunto che qualcuno fortunato ce l'ha perché c'è nato ma non è la normalità mi accontenterei che il progetto riuscisse a risolvere onestamente pragmaticamente economicamente sostenibilmente i problemi complessi dell'abitare non la legge non sostituisce il progetto la norma e il regolamento non sostituiscono il progetto quando la norma e il regolamento impediscono il progetto fanno un danno alla vita dei cittadini e su questo c'è un ripensamento profondo che va fatto sul modello italiano che vuole tradurre in legge e in norma l'atto progettuale perché i danni sono evidenti sono lì da vedere basta aprire non le finestre di piazza Navona ma magari le finestre di un luogo in cui si vede la normalità del paesaggio italiano allora il modello legislativo giuridico regolamentare cosa di cui parlo spesso con Massimidiano va ripensato rimettendo il progetto al centro mettendo quei paletti non spostabili e non interpretabili che vanno a messo ma lasciando liberare questa energia perché finché noi terremo chiuse le energie che stanno in una cultura profonda e millenaria della capacità italiana di trasformare il territorio e lo spazio in modo positivo cosa che abbiamo espresso per secoli finché continuiamo a pensare di poterli regolare con centinaia di articoli migliaia di pagine scritte in cui i progetti vengono descritti con parole non disegnati noi continueremo come dire a non essere capaci di risolvere problemi complessi ma a creare complessità a monte che impediscono la soluzione dei problemi ma io aggiungerei solo che intanto è arrivato in sala un informatore molto più qualificato di me sui patriarchi che è Vittorio Emiliani e che io ve ne ho parlato malamente adesso c'è lui che se vorrà più tardi nel dibattito oppure chi altro voglia diciamo solo per darvi una notizia di servizio e poi aggiungerei che la cosa che non abbiamo detto per brevità è un dato impressionante il verde storico e l'edilizia storica sono qualcosa di riproducibile non fosse altro per il modo di farli mano d'opera a basso costo tempo infinito interruzioni dei cellulari inesistenti quindi saldature continue per esempio nelle opere in ferro o cose del genere cioè è un patrimonio non riproducibile oggi non si può più fare ma questa irriproducibilità dell'antico che è sensibilissima è costosissimo fare un muro nel modo in cui si faceva una volta non lo può fare più nessuno nessuno se lo può permettere sarebbe meno grave se noi potessimo almeno dire che questo patrimonio preindustriale per dargli un nome lo conserviamo bene oppure se ci potessimo scusare dicendo lo conserviamo male perché è immenso e non ce la possiamo fare invece no il patrimonio preindustriale di verde storico e di costruito storico non è immenso per niente è piccolissimo è in continuo assottigliamento e le perdite che abbiamo subito non in Italia ma in Europa con i bombardamenti della Germania eccetera nella prima metà del Novecento con le due guerre mondiali sono inferiori le perdite di patrimonio storico in termini di superficie di verde urbano e di architettura storica urbana sono inferiori a quelle che abbiamo subito nella seconda metà del Novecento di relativa pace per cui abbiamo demolito di più in periodo di pace che in periodo di guerra usando le bombe il che la dice lunga sul fatto che questa esigua porzione che è fatta la dovuta fuori di metafora sono i patriarchi non vegetali ma edificati del vecchio DNA del vecchio modo di essere senza i quali le nuove città non si aggregano più e perdono di senso di direzione di orientamento ma che le stesse nuove città che ne hanno bisogno assediano rendono asfittici e demoliscono un po' alla volta anche dall'interno a Modicarie per cui i palazzi via del Corso ci sono ancora ma sono stati svuotati per intero da cielo a terra per cui il patrimonio di cui abbiamo bisogno senza il quale la città attuale contemporanea attorno non funziona ma che è pochissimo che stiamo bistrattando che stiamo demolendo più ora che mai prima meriterebbe quel minimo di attenzioni che speriamo possano essere riservate anche ai patriarchi l'ultima considerazione è comunque sempre sul valore se noi noi abbiamo a livello comparativo e questo è stato uno dei motivi per cui l'Italia si è trasformata in così poco tempo in tanto in tanto territorio cementificato e c'è quello del valore di trasformazione quindi la comparazione tra un terreno libero un terreno naturale e il valore di trasformazione che si dà a un terreno che va in edificazione quindi questa comparazione fino a quando come dire si determinerà continuerà ad esistere che sul terreno che può essere urbanizzato e quindi da piano regolatore viene messo una casellina e si dice da domani passi da zona E o zona bianca una volta ve lo ricordate le zone bianche quelle che stavano al di fuori dei centri edificati diventa una zona D o una zona C no? eccetera e quindi dopo lì la banca ci mette il mutuo perché poi può essere utilizzato per altri motivi evidentemente tutto questo no? naturalmente fa secco tutti i nostri le nostre valutazioni del tipo ecologico cioè quanto vale quel metro cubo di microorganismi che sta sotto che mantiene la fertilità dei suori che preserva la natura e preserva noi stessi nel futuro no? è comparabile in termini economici abbiamo degli indicatori e lo dico da crono ma ancora non abbiamo indicatori per valutare economicamente quel metro cubo di microorganismi che dà la fertilità ai suoli che consente di rigenerare no? i suoli stessi per mantenere la fertilità del futuro la fertilità quanto vale rispetto al valore di trasformazione edilizio perché questo ancora è il paradigma che noi abbiamo di fronte e questo qua è disposto una banca a metterci un mutuo su un terreno dove non c'è quella casella con classificazione da E a D questa è la domanda con cui vi lascio quindi no? Grazie.